Una tragedia evitata per pochi centimetri, quelli che miracolosamente hanno impedito al camion di precipitare i suoi veicoli in transito nella strada sottostante dopo aver sfondato le barriere di protezione di un cavalcavia. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito nello spettacolare incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 16. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un auto articolato ha perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre attraversava un ponte al chilometro 844 nei pressi dell'uscita per Monopoli-Castellana-Grotte. Il tir ha letteralmente spazzato via il guardrail e la rete di contenimento, ma la sua corsa si è fermata prima di finire di sotto, lungo la provinciale che collega Castellana e Monopoli. Mentre il rimorchio era ancora interamente sul cavalcavia, la cabina del mezzo è rimasta praticamente sospesa nel vuoto. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, l'autista è stato fatto uscire dall'abitacolo. L'uomo è restato di shock, ma non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto anche un'ambulanza del 118, personale dell'ANAS e agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del camion effettuate con una gru. Non pochi i disagi per gli automobilisti costretti a deviare anche di diversi chilometri. Lunghe code si sono registrate sulla strada statale 16 già all'altezza dello svincolo di Alberobello. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.